La sfida è come accompagnare alla grande qualità che noi abbiamo delle nostre produzioni anche una capacità organizzativa che renda facile l'arricinare il raggiungimento di quegli scaffali distributivi ai nostri prodotti. Su questo purtroppo siamo indietro, non tutta la produzione italiana è pronta ad affrontare questa complessità che oggi è la grande distribuzione organizzata, ma questa è la strada che dobbiamo con forza affrontare. Non sempre è facile dare una risposta economica, efficiente alla dimensione strutturale che abbiamo nelle aziende agricole, quindi più organizzazione, più concentrazione, più strumenti di aggregazione. Questa è la strada, non ci sono bacchette magiche, c'è gran lavoro da fare per tutti. Noi istituzioni che dobbiamo cercare di aiutare le imprese ad avere strumenti per competere e le imprese che devono accettare questa sfida.